L'Obesity Day 2023 è incentrato sull'obesità sarcopenica. Per obesità sarcopenica intendiamo un'alterazione della composizione corporea caratterizzata da un eccesso di massa grassa associata ad una riduzione della massa muscolare. E' proprio questa la sarcopenia. Esistono dei test per poter fare una diagnosi di deficit di forza muscolare che permette di sospettare una sarcopenia, test di facile esecuzione a cui puoi fare a seguito un test di accertamento e un test di valutazione della gravità della patologia stessa. Quali sono le cause? Uno stile di vita non adeguato nel senso di una vita sedentaria quindi riduzione dell'attività motoria giornaliera e un'alimentazione non corretta con una riduzione dell'apporto proteico giornaliero. I consigli per poter evitare questa condizione, i consigli nutrizionali si basano proprio sull'incremento dell'apporto delle proteine da distribuire tra pranzo e cena oltre che a colazione più con un yogurt greco, più proteico e salutare e da anche un apporto di proteine a colazione stessa. L'importante è fare una diagnosi precoce e quindi consentire un intervento terapeutico molto il prima possibile per poter evitare l'evoluzione di questa malattia che comporta un aumentato rischio di disabilità, di immobilità e di mortalità.